Andiamo ad aprire Animal Crossing New Line Ok All'interno troviamo Le Club Nintendo E un po' di Le novità dei giochi e La cantina con Le novità Poi i giochi che ci sono E il gioco Beh Potete vedere Molto bello come gioco Tutte le novità ci sono Persino le magliette di Beanstalk E arriveranno più avanti Novità delle carte Beh Ci vediamo alla prossima So